C'è una persona che ti ha salvato la vita, ti ha dato un'altra possibilità di vivere, non posso dimenticarlo, questo è impossibile. E poi quel passaggio là, noi chiamavamo il cimitero, se ne sono andata assai barca a fondo là, barca, grandestina, assai e nessuno fa niente. Tu sei buono! Ciao! Ciao, com'è? A posto. Bene? Brutta esperienza. Bruttissimo. Quanto sei stato là in quella pedana? Quanti giorni sei stato? Quasi una settimana. L'importante è che sei qua con noi, con i vivi. Gli altri non ce l'hanno fatto. Nonostante i diversi sbagli, il ministro dell'interno Maroni ha detto. Nordi apriremo il centro per i migrati di Lampedusa. Gli arrivi, ha spiegato. Saranno gestiti con il trasferimento verso altri... Quando vedo un mare adesso, mi penso a quello che è successo. Veramente mi penso. Voglio cancellare, ma è un po' più duro. È duro per me per cancellare qualcosa, perché sei mio cosino dentro. Tu ho preso di forza, appena ti ho messo a bordo... Terra. Ti ricordi? Mi ricordo, mi ricordo. Sei caduto a terra proprio sfinito. Magari mi informo un po' a qualche posto di lavoro, però Mazzara non è che offre. A me mi piacerebbe che tu venissi con me e con me è diverso. Tu per me sei... non lo so. Mi viene difficile a dirlo, ma per me sei come un figlio. Questo è il pesce a spada, qua. Avete la spada? Si attendo che ti taglia, eh? No. No.